A Venafro il Museo Archeologico di Santa Chiara è aperto a mezzo servizio. I visitatori che volessero venire qui di pomeriggio troverebbero queste porte chiuse. Il motivo legato alla carenza d'organico tra il personale dei custodi. Nonostante i concorsi del Ministero della Cultura, banditi e conclusi, in pochi tra i vincitori scelgono il Molise come sede di lavoro. Di qui la scopertura, i cinque operatori del Ministero in servizio si alternano tra il Castello Bandone e il Museo, quel numero appena sufficiente a garantire l'apertura mattutina e pomeridiana di una delle strutture. Un peccato perché i sempre più visitatori mostrano di apprezzare, tra gli altri siti di interesse culturale e turistico della città, proprio l'antico convento di Clausura, a testimoniarne il valore lo storico Franco Valente. Contiene delle opere che sono uniche in Italia, a cominciare dalla Venere, ma soprattutto gli scacchi e poi una serie di elementi di archeologia che sono venuti fuori a San Vincenzo a Volturno in particolare. Diciamo che è un deposito provvisorio, ma in Italia le cose provvisorie sono le più durature e quindi c'è una serie di affresche da San Vincenzo che sono particolarmente importanti. C'è una bellissima chiesa barocca, purtroppo sempre chiusa, che andrebbe valorizzata anche per i suoi significati storici. E quindi Venafra questo grande privilegio di avere un museo che vale la pena visitare proprio per la grande quantità di reperti che vi sono conservati. Cosa fare dunque per garantire una più ampia apertura del museo? La soluzione potrebbe essere adottata direttamente dal comune sulla falsariga di quanto già fatto a Pietra Abbondante e Gambatesa, dove sono state attivate delle borse lavoro per integrare il personale del museo.